La proposta è riferita al fatto che il Comune qualche anno addietro ha realizzato una struttura per l'ospitalità. Abbiamo tre suite elegantissime, oserei dire a 5 stelle, che vengono messe a disposizione di quanti intentano conoscere il nostro paese, se apprezzare le bellezze del paesaggio e sicuramente fare un tour in una condizione enogastronomica ormai rinomata, affermatissima, che richiama sempre tante persone nella nostra comunità. Quindi qual è la vostra proposta, Sindaco? Invitiamo naturalmente i cilentani, ma non solo i cilentani, ad aderire, a raggiungere Valle dell'Angelo, ad approfittare di questa bella occasione. Assolutamente. Domani inizia una serie di weekend in cui la nostra comunità mette a disposizione queste suite comunali a titolo gratuito per le persone che intendono venirci a conoscere e quindi apprezzare ciò che il nostro territorio offre. Accanto all'ospitalità, messa a disposizione dal Comune in termini di sistemazione albergiera, in senso stretto c'è la possibilità di partecipare a queste meravigliose esibizioni artistiche che sono immaginate per la serata. Un bel esempio di collaborazione tra comuni, ecco, in questo caso partiamo dalla Fiera della Croce, la millenaria Fiera della Croce, però un bel esempio di collaborazione territoriale. Beh, assolutamente sì. Io credo che il segreto per crescere è quello di consenziare le nostre piccole realtà sia per realizzare un'economia di scala, sia per mettere a punto un'offerta turistica che offre il meglio delle cose che sono, come dire, visitabili nel nostro territorio.